Weila, eccoci qua con il nostro Bitcoin Update, tardissimo perché bisognava controllare i mercati, oggi c'era il disastro, allora, un bel ribasso da parte di tutti i mercati, un bel ribassone, che però, guardate, adesso c'è anche un bel ribassone, tra l'altro, cioè proprio sul finale si è rimangiato tutto il ribasso. Allora, io ho venduto tutto, proprio veramente ho venduto tutto tutto, cioè non tipo come l'altra volta, ho venduto solo un po' di roba swing, ho venduto proprio tutto, perché questo? Adesso ve lo spiego, perché comunque qui siamo in modalità sopravvivenza, sempre la solita modalità sopravvivenza, togliamo un po' di roba in più che sennò fa casino, ecco. Siamo in modalità sopravvivenza, se noi qui adesso prendiamo un ibit, via, che è proprio pulito come volume grafico, farò un video un po' più veloce, poi mai facciamo i video il fine settimana, ecco. Allora, prendiamo questi ibit, cos'è che ha questi ibit? C'ha tutti sostanzialmente i volumi qua sopra, questo è ancora più palese della situazione. Adesso, se noi stiamo qua in modalità sopravvivenza e sopravviviamo, come stiamo sembra cercando di fare, ottimo, ottimo. Noi sopravviviamo e poi si va to the moon, va bene, cioè non sono bearish in teoria, ma qual è l'ipotesi contraria? L'ipotesi contraria è questa. Se andiamo qua giù, qui, vabbè, c'è questo volume che ci supporta, ma è diventato molto più piccolo e mi sa che è diventato molto più piccolo anche sullo stesso CMI. CMI, vediamo, sullo stesso CMI è diventato più piccolo, vedete, no, vedete, non si aggiorna, eccolo qua. No, sul CMI in realtà siamo lì, siamo lì ancora, sul CMI siamo lì ancora, sono praticamente uguali, nessuno dei due è più piccolo o più grande, sono uguali. Su un Bitcoin spot qualsiasi, prendiamo uno magari meno scarabocchiato possibile, guardate qui su Coinbase e sono anche qui palesemente molto più forti i volumi che adesso siamo appunto in supporto diretto, secco. Vediamo il nostro classico Bitcoin spot di Binance. Molto più forti, non molto più forti, sicuro. Prendiamone uno random jolly a caso, i futures di Binance, molto più forti. E poi prendiamo, non so come li calcola, un Bitcoin history, molto più forti. Allora, quindi, qual è il problema di questa situazione? Che, mettiamola in questi termini, dal mio punto di vista, la potenzialità che andiamo magari probabilmente a ripartire è più alta, va bene? È più alta la probabilità che andiamo a ripartire di quella che andiamo a schiantarci. Dal mio punto di vista è più alta. Quindi non è che sono bearish. Perché ora abbiamo chiuso un mese. Abbiamo chiuso un sacco di scadenze, di opzioni, roba. Anche gli indici hanno fatto un ritracciamento, ma sono tutti andati a un supporto fortissimo. Cioè, anche se ha fatto questo scatafascio qua, vedete, è andato soltanto nella zona precedente e ha fatto anche una reazione mastodontica. Sta facendo. Non è ancora chiuso, diciamo, sono chiusi e fra poco, fra poco chiudono. Ecco, fra un minuto. E quindi è molto positiva questa cosa. Col seno di poi, comunque, perché quando eravamo qui, noi non potevamo sapere se c'era questa reazione o no. Quando io ho scritto su Telegram, vendo tutto. Vedete, dov'è che è il mio Telegramino? Qui, che ho fatto tutta la radiocronaca. Dov'è che è la radiocronaca? Con uguale robe. Ho messo qui, vendo tutto. Questo è il nostro piccolo pack, sai, quello che si seguiva. Poi ho venduto della roba mia. Questo è un pacchettino, così, che se vedete il video, 100 dollari, 200k. Questa roba qua, con un clic ho venduto tutto. E anche ho venduto gran parte della roba mia. Però, quando eravamo qui col seno di poi, capite, col seno di poi, bello, fantastico, sì. Che adesso fanno questo rimbalzo, dici, vabbè, guarda che cazzata che hai fatto. Che poi non è ancora finita. Quindi, vediamo se è veramente così. Invece, con, praticamente, il... E tra l'altro, guardate, si sta rimangiando tutto, praticamente. È interessante sta cosa, perché io avevo ancora degli short che stavano per andare in stop loss. Invece, a quanto pare, non ci sono ancora andati. Vediamo. Fatemi controllare, volete. Per questo non ho fatto il video, perché sono qua impegnato. Ecco. Vabbè. Comunque, finisce il mese. Adesso, se noi ci troviamo qua, e vedete questo scarico. Se questo scarico, invece di, diciamo, essere difeso a uno degli ultimi livelli, praticamente qui, l'ultimo livello di liquidità, è anche questo. Continuava il ribasso. Che cosa combinavamo qui? Cioè, che cosa facevamo, sostanzialmente? Facevamo un disastro. Era troppo pericoloso. Nonostante io sia, appunto, più convinto che adesso teniamo, evviva, siamo tutti felici e contenti. Anzi, sapete cosa dico io? Io chiudo, mentre sto facendo il video, chiudo questi short a pochissima perdita. Lo scrivo. A poca perdita, ora che fa il retest. Perché è, anzi, addirittura un setup long adesso. Quindi, vedete perché non facevo il video. Però, ecco, che chiudo. Per fortuna mi ha fatto questa roba. Mi ha salvato un attimo al volo e ho del delishort qua. Vabbè. Basta, adesso non devo fare più niente. Allora, quindi, adesso che siamo a partenza del mese, sono anche relativamente positivo. Anche questa candela qua, di reazione, è assolutamente positiva. Bellissima. E quindi, vendo tutto, potrebbe annullarsi direttamente questo fin di settimana. Perché comunque questa qui è proprio un candelone di reazione pazzesco. Però, cos'è che succede? Però a me piacerebbe di più vedere cosa succede lunedì a Wall Street, sinceramente. Mi piacerebbe di più vedere questa situazione qua. Perché adesso la reazione qua è fortissima e c'è stata. Però abbiamo tutti questi volumi qua e può essere ancora una roba del genere. Tra parentesi, dubito. Però, a questo punto dubito. Però, non si sa mai. Non si sa mai. Quindi io cosa ho fatto? Perché ho venduto tutto? Bisogna capire il perché si vende tutto. Perché io qua sono troppo in pericolo. Capite? La situazione qua è troppo pericolosa. Nonostante io rimanga con, non so, per esempio, 70% bullish, 30% bearish. Capite che se mi inizia a rompere questo livello seriamente che sta tenendo in modalità survival mode assurdo. Se me lo rompe, c'è questo POC di difesa. Quindi per lo spot non sarebbe sto grave danno. Però, a parte il fatto che ti fai un bel scivolone diretto. E senza contare il fatto che poi bisogna vedere se si torna bearish o no. Qui c'è il POC. Però, quando poi si fanno i sciacconi, si torna anche direttamente magari qua. Perché magari c'è un flash crash, si torna qua. O addirittura qua. E poi magari ti retesta i volumi. Non è detto che questi tengano subito. Anche perché questi volumi potrebbero anche non esistere praticamente più. Non è detto. Nel senso che questi volumi qua hanno già fatto il loro compito di andare fino a qui. E qui, dopo la malparata, qui difendono oppure lasciano correre il prezzo al ribasso. Quindi sì, beh, sicuramente ci sarà un po' di reazione. Sicuramente sarà un punto in cui vedremo qualcosa. Ma bisogna vedere come. Perché ad esempio, per fare un esempio di volumi di questo genere che non hanno proprio fatto da supporto. C'era lo sciacquone che successe nel 2023. E poi qua. Nel 2023. Vedete qua questa situazione. Quando siamo scesi qui, sembrava comunque, vabbè, stiamo tenendo. Però abbiamo anche i volumi sotto. E quindi non dovremo fare tutto sto gran disastro. Dai, perché se no prendeva tutta la zona, uno diceva, guarda, c'è anche questo volumino qua, male che vada, no? Dice, vabbè, c'è anche questo volumino. Però il volumino, bisogna vederlo. Perché poi, quando arriva magari la sciacquonata, ti va direttamente sui livelli di prezzo bassi. Poi magari te lo usa come retest. E poi, va, capite. Però, vabbè, ho capito che abbiamo supporto sotto. Ma se invece ti fa lo sciacquone e poi il retest, cioè, è troppo pericoloso. Stessa roba su Ethereum, poi. Che Ethereum io, in effetti, quando l'ho comprato, ho già fatto un bel guadagno. Bellissimo. Perché l'ho comprato qua. Perché devo tenerlo e rischiare che mi torni completamente giù, capite? Per questo io ho detto, boh, sapete cosa vi dico? Clicca e vendo tutto. Però, quando uno fa un click e vende tutto, non è che è poi così costretto a dire, vabbè, adesso non ricomprerò mai più. Cioè, capite? Non c'è nessuna... Niente ti dice che dopo non devi ricomprare più. Puoi comprare tranquillamente, no? Cioè, che problema c'è? Dopo, magari, vedi che le cose vanno meglio, sei più tranquillo, vedi qualche setup rialzista e ricompri. Questo è il senso. Perché poi, cos'è che succede spesso? Che uno dice, magari, si trova... Perché il mercato ti intrappola. Questo è il problema. Il mercato ti intrappola. Per questo si prendono queste scelte. Non per fare più soldi, per non essere intrappolati dal mercato. Perché adesso, per dire, prendiamo il nostro... Ehm... Prendiamo il nostro qua, Bitcoin, oltre ai mystery, così, come grafico pulito. Cos'è che può succedere qua? Immaginiamo, no? Uno dice, sì, vabbè, sono bullish. Sì, vabbè, ma anche se mi torna qua il prezzo non mi cambia. Casomai rivaluto. Però poi il mercato non ti dà più rivalutazioni. Se scende, inizia a far così. Poi dici, ma se c'è un rimbalzo non te lo fa. Sì, però qua adesso fa una reazione e non te lo fa. E ti incastra. Allora uno dice, io ho comprato qui, il mio obiettivo era andare to the moon. Oppure comunque prendermi qualcosa. Inizia a scendere e sei in perdita. Così funziona. Sei in perdita. Dici, sì, vabbè, ma non hai tanta perdita. Adesso magari recupera il livello. Magari hai un rimbalzo, rivaluto se vendere. Non ti fa mai un rimbalzo decente. Quando iniziano veramente a scendere male. Non ti fa un rimbalzo decente. Allora dici, sì, vabbè, però a me, sinceramente, più o meno il prezzo è lì. Vabbè, posso anche stare un po' in drawdown. Però poi inizia ad essere più drawdown del drawdown. E cosa fai? E ti trasformi in un holder. Eh, ma io sono un holder. Ho capito che sei un holder. Ma questo era il tuo piano fin dall'inizio. Di entrare qua e dire, vabbè, se poi mi crolla qui, pazienza. Oppure non volevi fare sta roba. Perché io non volevo fare sta roba, sinceramente. Cioè, il mio piano era, ho un segnale long, la trend, is your friend, pim pum pam. Qui vedo che c'è una ripartenza anche da qui. Mi piazzo long perché voglio vedere la rottura dei massimi. Se poi questa roba mi si invalida. Ma io non posso uscire quando si è invalidata al 100%. Perché quando si è invalidata al 100%, magari sono già qua. E poi sono già in forte perita. Poi magari mi fa sto rimbalzo, magari no. Vedete? E poi fa magari invece una flag più lunga. Che era una di quelle idee che c'erano sul piatto. Eh, una roba del genere. Magari spike e poi ripartenza. Fa un lungo fleggone. Così, fino a, diciamo, il periodo delle elezioni, eccetera. Questo è assolutamente sul piatto. E io voglio rimanere dentro sta roba qua. Ma io perché devo rimanere dentro sta roba qua? Esco, capite? Eh, e se poi adesso invece va to the moon. Se poi va to the moon. Io controllerò il prezzo, capite? E guardo qui. Vedo, ok, non è vero. Mi sta facendo moon. Scusate, con i investi. Mi sta facendo moon. Rientro. Mari, sono uscito da queste parti e rientro qui. E ho preso un rientro in perdita del 3%. Però bisogna capire quali sono gli obiettivi. Se io entro qua a spot su Bitcoin, entro per fare perché mi interessa il 3% più o meno. No, entro perché spero che poi vada veramente up tanto. Tipo, rompa, rialzo, va almeno a 80k. Puoi arrivare su un 14%. Qual è che è il mio target minimo? Praticamente 100k, secondo me...